Eeeh, ciao cari, sono Atrix, signori, bentornati cari nel canale, torniamo cari su Arson, torniamo chiaramente in pigiama, io cari ve lo dico, fa freddo a casa, io non devo dimostrare niente a nessuno, no, che vedevo dimostrare, io sono un artigiano, sono ignorante, a me fare un video in pigiama dimostra quella che è l'assoluta, ineffabile professionalità del canale, cazzo. E quindi cari, rimango in pigiama, ma rimango in pigiama andando oggi cari a proporvi, abbiamo finito di scherzare per quanto poi sia stato divertente il video di ieri e anche competitivo potrebbe sicuramente esserlo, ora cari attendiamo un attimo che si stabilizza il meta, oggi sono abbastanza sicuro, anche se non ci ho mai giocato, di proporvi uno dei deck probabilmente più forti dopo l'espansione cari. Ne abbiamo trovati un bel po', mi hanno salassato quelli che ho trovato, trattasi di Secret Tempo Maggio cari. La variante nel senso, le carte modificate rispetto alla versione diciamo del meta scorso, sono chiaramente cari i due segreti a tre, io ve l'ho detto appena l'ho visti, gli Explosive Runes, ve l'ho detto subito, avevano un potenziale devastante e come vi ho detto nell'analisi delle carte, secondo me avrebbero sostituito i Mirror Entity e così cari è, o perlomeno in questa lista che ci ha regalato Hotform perlomeno vige questa regola. Poi cari cos'è che abbiamo di nuovo? Abbiamo il Kabalakri, allora cari il Kabalakri voi sapete è il minion a uno de mana che vi mette il segreto gratis per quel turno. Il motivo per cui prima non c'era il Kabalakri qual'era? È che semplicemente voi giocavate un po' tutto in early game e finivate le carte nei primi tre turni. Ora cari, la forza del deck potrebbe, non dico è, dico potrebbe perché ancora devo testarlo, giocare attorno cari alla nuova arma leggendaria del mago, l'Alunet. L'Alunet è un'arma che a me ma anche a tutti gli altri, non so se avete seguito la card review, non ci è piaciuta subito perché comunque è un'arma a sedimana che ti fa sì per scattare carte però che alla lunga ti potrebbe portare in fatica o comunque ti potrebbe andare a bruciare carte, effettivamente cos'è che abbiamo detto? Abbiamo detto ok sì non ci fa impazzire però se troverà mai spazio in un deck aggro come questo potrebbe avere il suo perché signori. In questo deck ve lo dico subito ha il suo perché perché vi permette comunque di ciclare, di pescare carte ogni turno e quindi cari potete mettere un'aggressività tutti i turni ed è veramente veramente esplosiva. Signori bando alle cianze, bando alle parole, partiamo subito con la prima partita live, vi invito cari se vi piace il video a lasciare un like e soprattutto a fare una bella condivisione, partiamo subito. Allora cari, Maiev, è Maiev no come si chiama? Sì Maiev è il primo che ce la vuomette in culo, tenteremo di riservarci il retto appunto per evitare la salassata. Allora io mi tengo praticamente tutto anche se mi piacerebbe in realtà tenermi solo il segreto perché qua partire con quello stronzo che ci dà il segreto gratis a uno di mana è la cosa migliore. Ah caro mi è uscito, salve la che. Molto forte cari il turno 1, magari questa in queste vinciamo subito, sarebbe molto interessante come situazione. Ottimo anche cari il glifo per avere una giocata al turno 2, al turno 4 chiaramente avremo la porta cristalli, posso anche prendere un bel segretino dal glifo nel caso in cui mi esca però devo giocarlo purtroppo il turno 2, quindi avere un top deck di valletto potrebbe essere molto 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 interessante. Comunque lui qua gioca chiaramente la lucciola, non mi dà alcun tipo di problema, l'andrò molto probabilmente a traddare. Oh il segreto per carità di dio ci è uscito, infatti me lo prendo, me lo prendo sicuramente. Qua chiaramente cari il trade ci sta tantissimo, evito che lui possa fare hero power e mi tradda a sua volta. Devo capire che, oddio, in realtà il meta cari qua è ballerino, potrebbe tranquillamente stabilizzarsi, potrebbe tranquillamente essere un kelleset tempo rogue, il che ripeto cari ci potrebbe stare. Qua chiaramente vado in trade, metto il rune che è molto 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 forte, turno dopo porta cristalli, continua a traddare. Ho anche il dardo di gelo se metto un S7, eh. Non è male cari come, come irli, stiamo mettendo una bella, bella pressione. Qua il problema, ok, lui è morto, poi gli faccio 5 danni in bocca, non è male, questa è la vera forza di questa spell, che comunque cari 5 danni, non pensate siano pochi. Perché noi siamo un deck particolarmente aggressivo, particolarmente aggressivo. Arcanologa sicuramente, io gioco anche la, la, questa qua. Potevo anche cari giocare fletti magie e lei a zero, però bisogna di mettere board. Comunque abbiamo tempo di giocare i nostri segreti. Il tar va bene, il tar va bene, il backstab non lo puoi giocare caro, quindi non puoi schiantare niente, un poco mi dispiace, sì, un pochino, poco, poco, poco mi dispiace. Andrò cari a traddare tutto in questo spot, traddo tutto a meno che non esce qualcosa di buono. Non mi piace cari, non mi piace, non è, non è così buono, non è così buono. Quindi traddo tutto, pingo lui, gioco la rune, perché voglio continuare a fare danni in bocca, danni in bocca e non voglio che lui metta board. Allora l'S7 è sicuramente molto forte, voi lo sapete che il grido di battaglia si attiva prima del segreto. Quindi comunque l'S7 mi distrugge il 5-2. Gli faccio 3 danni in faccia con un probabile S7, se non c'è niente caro è sulla schiena. E penso che lui non abbia assolutamente niente, abbiamo messo veramente cari unirli molto 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 interessante. Io continuo a giocare a segreti, continuo a giocare a segreti e sono talmente aggressivo che faccio anche una bella Frostball Face in modo cari che è schioppato. Abbiamo veramente troppo troppo bars. Turno 7 andiamo di portale, lui in realtà si prende altri bei schiaffi con il rune esplosive. Fletti magie vuol dire che non è Countess per il caro. Ok, la Villers va bene, ti metti due schiaffi in faccia. Quindi 15-14-13-12-11 dovrebbe essere lì dal cari in due turni, tranquillamente. Allora, quanto è forte la rune esplosive cari? Quanto è forte la rune esplosive? Signori, oh signor, 5 danni, 6-7. Abbiamo settato lì per il turno dopo. La partita cari è vinta perché lui essendo un tempo rogue, penso, penso sì, questo è un tempo rogue che non è partito coccale se è una tristezza infinita. Ha perso, quindi si potrebbe, potrà tranquillamente concedere i cagli. Prima partita finita in quanto? In due minuti e mezzo, io sono già direttissimo alla prossima. A meno che non prende un segreto di liacchissimo, che ci potrebbe pure stare perché le sculadine degli avversari la fanno spesso e volentieri. Oppure, continua a giocare? Non lo so. Non lo so. So solo che stiamo perdendo un pochino di tempo, caro. Lui forse è uno di quei tipi, no? Che si incazza come una faina perché perde, quindi dice, va bene. Quitto il gioco, alta f4, così devi aspettare la rope, infatti il tuo avversario ha concesso, no? Cose veramente di poco conto e poco... Poco divertenti. Caro, si dia una mossa, si dia. Cioè, cosa c'ha da pensare? No, mi farà così, farà così. Lui, South Power, è uno di quei stronzi che... Io mi prenderei a schiaffi adesso, ma... Se non ci fosse un display che limita tutta l'azione. Niente, ragazzi. Ragazzi, sta gente qua è più cattiva di Hitler, dio caro. È più cattiva di Hitler. È una cosa incredibile. Io, 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 veramente... Io, io, se siete postati qua... Sfogherei tutta la mia rabbia su di lei. Andiamo alla prossima, per l'amor de' Dio. Allora, cari, il prossimo è Malfi. Oh, Malfi, caro, salve. Allora, questo è aggro. Ormai, gli aggro hanno capito che comunque... Gli aggro, gli druidi, i token aggro druidi, hanno capito... Che in questo meta che si sta sviluppando, comunque sono forti. Ed è vero, cari, effettivamente è vero. Sono molto, 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 molto forti. Io, con questa mano, anche se esprimo tanto potenziale, forse, cari, non posso andare avanti. Devo... Io me la derrei tutta, perché comunque abbiamo dei top deck molto buoni. Il dardo me lo posso tenere, visto che per l'appunto, secondo me, è un aggro. Il contro incantesimo e la porta cristalli ci sono... Vanno da Dio, ma ho bisogno di quelle quattro carte che mi fanno giocare il segreto a zero. Quindi questo potrebbe farla... L'arc non lo che è molto buono, il turno 2, ok. Sono un pochino fortunato, perché ho un turno 2, turno 3, turno 4 con la porta cristalli. Non è... Non è malissimo. Non è malissimo. Ah, questo è malissimo, però. Questo top deck è malissimo. Ok, partiamo lenti, cazzo. Era... Era la mia paura... Eh, la mia paura più grossa era proprio quella. Purtroppo era quella, era... Il valletto va pure bene, però purtroppo partiamo un pochino lentini, eh. Count e spell count e spell count e spell va bene contro... Contro Malfuron, in realtà. Va molto bene, perché se ci pensate, cari, ora... Il coin l'abbiamo noi? È molto, molto forte. Eh... Sì, mi piace, caro. Mi piace tantissimo lui. Giochiamo in curva. Al turno 4 spregniamo la... La porta cristalli. Lui si baffa. Il che va benissimo. Purtroppo non possiamo giocare il conto incantesimo porta cristalli perché siamo un mana off. Che sarebbe stato particolarmente interessante. Ora, lui qua non so se vuole giocare veramente la nourish oppure se vuole un attimo... Tentar di proccare la situazione. No, ok. Quindi, cari, abbiamo un buon trade, in realtà, sul 3-3. Questo caro non funge. Questo caro non funge. Mi dispiace un po' per lei. Sono tentatissimo di giocare la seconda count spell, però perderei troppo tempo, sapete? Perderei troppo tempo. Questo è un turno un pochino difficile. Parecchio difficile, in realtà. Perché... Potrei giocare il dardo e proteggere... Penso cari sia la giocata più forte, proteggere il mio mana, Wyrm. 4, 5, 6... Il turno dopo, 3, 4 e 5 potrei fare. Potrei giocare il valletto in tempo. Ed è proprio quello che vado a fare. Turno 5 abbiamo 3, 4 e 5, che è molto, molto forte. Possiamo anche giocare il run explosive. Magari utilizziamo il count spell per andare appunto a counterare... Al turno 10. Oddio, posso anche utilizzarlo adesso per counterare comunque un... Ok, naturalizzazione va anche bene, in realtà. Un pepe solo come un assassino, adesso. Bello lui, micchia. Bellissimo lui. Quindi 1. Questo. 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 Chiaramente voglio proteggere il 2-1. Vado tutto assolutamente faccia. Adesso, chiaramente, non riusciamo a counterare l'ultimate infestation, cari. Ma counteriamo comunque lo spedding plug. A meno che chiaramente non c'è uno spell da 3 o inferiore. In quel caso, no. Medivh? Medivh si prende comunque 6 danni. Che va sicuro che non so pochi. Lo completiamo il trade con l'euro power e andiamo tutto faccia. Perché non è attaccato lui? Si è capito. Devo pescare. Devo pescare. A meno che non prendo segreto. Niente segreto. Va bene. More così. Facciamo tantissimi danni, cari. Abbiamo fatto tantissimi, tantissimi danni. Molti, molti danni. Possiamo tranquillamente chiudere con i burst, eh. Perché comunque, ripeto, che questo è counter spell. E questo gli fa malissimo sto counter spell. Ma male, male, male. Potrebbe giocare Ultimate Infestation perché... Ok, Nourish non va bene, caro. Penso che ha perso lei. Penso che lei ha perso. Sì, vabbè, se prende... Oh, no! No, bruttissimo lui. Dammi un'altra provocazione, caro. Te faccio vedere quanto male te faccio. Dammi un'altra provocazione. Teniamoci burst. Teniamoci burst. Due. Sì, ce li teniamo assolutamente. Diamo faccia. Io potrei giocare cari tranquillamente in Akiritor. Tranquillamente. Perché lui potrebbe giocare in Ultimate Infestation sul 5-4. Dopodiché sul 4-3 non completa il trade. E con la Fireball abbiamo vinto. Altrimenti se non giocavo segreto, lui giocava l'Ultimate Infestation. E non avevamo il burst per batterlo. Questo è il discorso. Ah, lei caro si suicida siccome... Ah, siccome kamikaze, cari. Seconda andata. Tranquilla proprio, andiamo alla terza. Che questo deck, cari, era buono. Era ovvio, ve l'avevo detto. E sta fondamentalmente andando a convincermi ancora di più. Ora, non abbiamo ancora giocato l'Alunet, no? Pensate se si chiama così. La nuova arma. In realtà vorrei tanto giocarla, ma... Leviamo la novizia. No, in realtà è forte la novizia. Molto, molto... A livello di tempo è molto, molto interessante. Perfetto il segreto. Quindi vorrei, caro, che lei mi dia... Mica se mi dai il 2-1 a costo 1, faccio un bordello. Faccio al turno 1. Dragone di mana. Coin. Lo stronzo 2-1 a costo 1. Countespell. Il drago mi diventa un 3-3. Ho un 2-1 e un countespell. GG. Quando parti così, cari, c'è poco da fare. A prescindere dal deck avversario. Questo è chiaro. Comunque, non si sa, lui, che in realtà cosa sia. Potrebbe essere un control demon lock. Quello che avevo portato ieri. In quel caso... In quel caso posso tranquillamente dire che siamo in vantaggio. Possiamo tranquillamente dire che possiamo partire in vantaggio. Perché il dragone di turno 1 gli dà veramente tanti, tanti problemi. Nel caso invece contrario, se è uno su, ce la giochiamo. Nel senso che lui parte sopra. Diciamo, dipende un po' dalla nostra mano. Dipende un po' da quello che prendiamo. Ripeto, se prendiamo un Akiritor o un 2-1 abbiamo il vantaggio tempo che ci serve per vincere contro uno su. Altrimenti, cari, non lo so. Ce la dobbiamo giocare. Il koboldo è fastidioso nel caso in cui dovesse giocarlo. Il koboldo 2-1 è fastidioso. Il koboldo 2-1 è sempre fastidioso. Potrebbe essere combattuto se giocare il koboldo o la mistress. Io la vedo così. Io la vedo in questa maniera, però va bene comunque. Andiamo chiaramente a giocare il Mana Wyrm. Perché non abbiamo altre soluzioni. Una spira mi dà problemi. Mi dà particolari problemi. Noi purtroppo non abbiamo nekiritor nell'altra. Questo per un tempo, sì, che è un problema. È un problema. O potrebbe anche giocare un defile perché l'1-3 è forte, eh. Veramente molto, molto, molto forte. Quel 2-1 deve andare sempre contro l'1-3. Questo è chiaro. Se mi gioca la mistress, io penso che lui abbia la mia... Oddio, il 2-4 pure è fastidiosissimo. Ok, questo va anche bene. Ok, è un aggro. Ok, non ce l'ho capito ben poco. È un aggro. Ok, ok, ok. Benissimo, benissimo. Benissimo. Bene lei, cazzo. Bene lei non ancora, però, in realtà. Eh, potrei anche temporeggiare un attimo. Coin. Allora, cari. Posso giocare coin lui e lui. Traddo l'1-3, però il 3-2 è un buon value trade sulla maga. Ci sta, però, eh. Non è male. Viceversa potrei andare di coin, novizia. In quel caso, però, l'2-1 avrebbe il value trade sulla novizia. Quindi come va, dove va? Come gira, gira. A sto punto, cari, io preferisco andare di Kiritor, eh. E metterse credo. Lui chiaramente si tradda. Comunque è un buon turno. Sarebbe stato un buon turno a prescindere. Certo, se poi dal grifo prendevo una frostbolt, non era assolutamente male. Però, ripeto, il trade qua me lo fa in entrambi i casi. Quindi, perlomeno abbiamo messo un contro incantesio. Possiamo dobbdeckare... Questo è fastidioso. Possiamo dobbdeckare comunque un valletto, che non è male. Lui, chiaramente, qua devi traddare, eh. Qua c'è poco da... C'è poco da pensare. Devi traddare. Mo' inizia... Il bucaniere è particolarmente fastidioso. Chiaramente giochiamo lui. Ho bisogno di qualcosa per traddare, eh. Ecco. Qua non è che mi aiuta tantissimo la cosa. In realtà non mi aiuta per niente. Pozione. Potrebbe essere buona in futuro, però è un po' no merda. È l'unica OE che possiamo avere. Coboldo continua ad essere fortissimo. E occhio anche alla sua vita, anche se comunque non posso giocare contro un agro in questo modo. Malchesarimp. Ancora forte. Tappa. Andrà a fare il trade, sicuramente. Io mo' che il cazzo gli racconto. Ok, questo è molto interessante, eh. Questo è molto interessante. Traddo. Tappa. Bisogna tenere, cari... Per quanto si possa fare, labor control in questa partita. Lui parte sopra. È uno su, l'abbiamo già detto. Non occorre che lo ripeto. Però, insomma, abbiamo delle chicche. Che potrebbero asfaltarlo. Le chicche sono i nostri burst. Perché, ripeto, lui non ha heal. A meno che non è un deck su che gioca anche l'esperson. In quel caso va bene. La buttiamo in cacciara. Però, insomma, a parte quello... Ok, ora qua per esempio un Dungard sarebbe devastante, ma... Confido sul fatto che lui non lo abbia. Altrimenti è GG, molto probabilmente. Se gioca il Dungard. Se gioca il Dungard non ho proprio... Non so proprio quello che devo fare. Ora, l'unica mia idea... L'unica mia... L'unica mia incondition potrebbe essere quella, ripeto, di essere aggressivo Contro un deck che di fondo è più aggressivo di me. Ok. Mi serve qualcosa di giocabile? No, 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 caro. Questo non è giocabile, cazzo. Questo non è giocabile, porca puttana troia. Questo non è giocabile. Lui non ha... Deve andare faccia, dai. Deve andare faccia, cari. Lui non ha il... Devo essere aggressivo, altrimenti non vinciamo più. Ripeto, lui non ha il Dungard, altrimenti l'avrebbe giocato prima. Se lo dodecca sti cazzi, va bene. Se traddo l'1-3, non ha senso. Traddo l'1-3, mi ho messo 3 danni. E comunque lui poi va sotto il nut. Avrebbe poco, poco, poco senso. Ecco. Ora qua sono cazzi miei. Grossi. 6, 5, 4, 3. Giocheremo comunque la... La pozione. La Kiritor non mi serve assolutamente a niente. Giocheremo comunque la pozione. Traddo lui. Gioco la Kiritor. Probabilmente finirà il trade col 3-3. Vabbè, ma questo è l'unica cosa che posso fare. Portale. Probabilmente lo farò faccia. Ma non... Non arrivo a lungo. Nel senso, se non ho le mie due Fireball... Se io top decco Fireball, Fireball lo vinciamo la partita. Qua chiaramente il trade lo devi fare. Se non mi giochi niente, sono costretto a rimuovere il 5-2. Ok, non posso, cari. Sono costretto a rimuovere il 5-2. Non c'è proprio altra soluzione. Sono troppi i 5 danni che mi può fare lui. Il 3-6 è interessante, eh. Il 3-6 è interessante. Abbiamo 3 danni. 6, 12, 3, 4, 5, 5, 5. Ho bisogno di pescare qualcosa. Mi dia l'Alunet, cazzo. L'Alunet qua può fare veramente la differenza. Può fare tanto la differenza. Anche perché se aspetto che lui mi gioca a Gul'dan di K, abbiamo vinto. Cioè, abbiamo vinto. Capirai. Abbiamo perso. Tutta la vita. Abbiamo tanto, tanto, tanto perso. Non ho idea. Lui non può tappare. Lui l'ha capito che non può tappare. Lui tappa solamente se è disperato e non ha una giocata al turno 8. Perché tappando lui si taglia la testa da solo. Se tappa, ripeto, è perché non ha alcuna giocata da fare. Ma mica che carte c'hai? Sul fire, sul fire. Che c'hai? Sul fire, sul fire? Boh, xx? Potrebbe. Quindi spero che tu abbia topdeccato bene, caro. Altrimenti... Davvero dura? Io devo essere aggressivo, eh. Me lo so... Non me lo devo mai ricordare. Ok. Sul fire, caro, chiaramente. No. Ce n'hai un altro, sicuro. No. Ok. A me va bene. Un turno abbastanza passivo. Oh! Do deca! Qualcosa! Qualcosa, io caro! Un'ottima cosa, io caro. Un'ottima cosa, questa è. Bene. 4, 5, 6, 7, 8. Settiamo l'Itano in due turni se non mi contesta l'8-8. Il problema... Il problema è il coso, belli miei. Il Gul'dan Decay che c'ha in mano al 100%. Ok. Ora, Dio caro, ti giuro, se ti è rimasto Gul'dan Decay, mi incazzo come un fabbro. Mi incazzo come un fabbro, mi incazzo. Non lo voglio rimuovere il 5-3. Perché se ha veramente Gul'dan Decay è terribile. Perché gli rispauna. Gul'dan Decay, cari. Porca madosca, puttana, la sverginata maledetta, oh! Ha scartato due carte... E l'altra era Gul'dan Decay, seriamente. Non ci posso credere. Non ci posso mai credere, veramente. Non ci posso credere. Puttana madosca, ragazzi. Che sfiga di merda. Che sfiga del cazzo. Che sfiga, oh! Mamma mia! Tutto faccia. Cazzo vogliamo parlare. Tutto faccia. Devo rimuovere il Dungard. Devo rimuovere il Dungard tutta la vita. Quanti danni c'ha? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. C'ha 16 danni. No, dovremmo avere il Dungard. Avremmo vinto, cazzo. Avremmo vinto. Se avesse scartato... Cioè, aveva tre carte. Ne ha scartate due. E ha lasciato il Gul'dan Decay in te. È in mano, guarda. È una cosa impressionante. Impressionante, seriamente. Lui sta a 10. Abbiamo 6 danni. Se lui mi gioca una fellenia e fa un misplake lamoroso, lui qua non deve giocare niente. Perché se qua fa un misplake lamoroso, lui gioca. Lui gioca qualcosa. Ecco, niente mi esplica lamoroso. Niente mi esplica lamoroso. Mannaglia la buttana, mannaglia. Guarda che sfiga. Seconda Fireball abbiamo vinto. Glifo? Non abbiamo più. Quanti danni c'ha? Eh, ha vinto lui, scusami. 5, 6, 8, 9, 10. Che cazzo sto contando? Chiaramente vinto. Ci sono rimasto malissimo. Talmente male che non mi sono neanche accorto che ho perso. È sfiga, ragazzi. Questa è sfiga. C'è poco da fare. Questa è sfiga, è un rotto in culo. No, alla prossima. E poi, non solo. È quello di prima? Cioè, aveva anche top deckato il Dungar. Qui quando proprio il gioco ti manda a fare in culo. È quello di prima. È quello di prima. Madonna, caro. Dio, caro, quanto ho messo il cazzo, te menerei. Te menerei. Rune explosive è molto interessante. Ti traddo qualsiasi cosa se tu giochi al turno 1. Il glifo è un buon follow up al turno 2. Ti faccio un culo grosso così, figlio di puttana. No, te lo dico. Mi sbilancio. Mi sbilancio. Mi sbilancio. Lei è uno stronzo. Lei è veramente uno stronzo. Merita di... La partita se la meritava tanto di perdere. Ma tantissimo. Poi chiaramente botta le culo e vince. Ora, qua te traddo tutto. Qualsiasi cosa lei gioca. Non è count spell? Madonna che gusto. Madonna che soddisfazione, cazzo. Madonna che soddisfazione. Forte sta cazzo di spell. È troppo forte. Cari, vado chiaramente a giocare la signorina. Ho bisogno... Ho bisogno di prendere un segreto dal glifo. Per poi giocare il valletto. Gioco tutto. L'alunet mi dovrà uscire prima o poi. Cioè, anche perché il deck è fatto per quella. Volevo farvela vedere. Ok, va bene. Ti tradderò entrambi. Dammi il segreto. Dammi... No, me lo devi dare da qua il segreto. Altrimenti non posso giocarlo. Vaporizzazione, cari, penso che sia più che sufficiente. Penso che sia più che sufficiente. Traddo tutto. Traddo tutto. E ti vado faccia. Oh! L'intervento arcano era molto forte. Abbiate Venia. Però... Questa mette... Mette pressione. Abbiamo un sacco di carte per pescare. Non ho bisogno adesso... Del coso lì. Il coin l'ha già giocato? Ok. Ti ho asfaltato, cari. Ti ho asfaltato. Di brutto ti ho asfaltato. Mamma quanto ti ho rotto il culo. Mamma quanto ti ho rotto il culo. Meglio il count spell in questo spot. Lei chiaramente va giù. 3, 4, 5. Mamma mia, ti ho distrutto. Guarda. Che soddisfazione che mi ha dato. Veramente. Abbiamo un altro segreto, eh. Qua vaporizzazione. Count spell. Vaporizzazione serve un cazzo. È servita solamente per attivare lui. Però vabbè. Il void. Questo va bene. Questo va bene. Q2, 4, 5. Peccato non posso giocare lui, eh. Davvero un peccato grosso. Comunque non fa niente. Lui chiaramente va traddato. 5 danni vanno... Perché si è... Si è frizzato tutto. Impazzisco. Potevo impazzire e mi si era frizzato tutto. Io non so il computer che problemi mi dà da ieri. Che si frizza all'improvviso. Non lo so. Magari gli manca casa. Questo ancora non l'ho capito. Va bene. Questo è sicuramente forte. Questo va... Purtroppo per te va chiaramente contestato. Ehm... Mamma quanti segreti che non servono a cazzo abbiamo. È divertentissima la cosa. Ok. 3, 4... Vai caro, vai. Tappi, tappi. Tappi, tappi. Peraltro Gari non può nemmeno giocare la Sperson. Perché abbiamo il controincantesimo. Quindi... L'abbiamo asfaltato al turno segreti. Questo era quello che volevo farvi vedere. Questo era quello che volevo farvi vedere. Vabbè questa... Divertente caro. È mia. Me la sono pappata io. Cosa stai facendo? Cosa stai facendo caro? Che stai... Che stai combinando? Sei capisce niente quello che lei ha fatto. Ha fatto un turno di merda. Oh signore. Mamma come te lo dico io. Salve caro. Mamma ti è passato davanti un tiro e non ci ha capito un cazzo. Ok. Ora sono contento. Possiamo andare alla prossima senza che io sia troppo arrogante. Signori, ultima partita. La giochiamo contro Ladro. Contro Ladro. Probabilmente sarà anche questo un tempo rogue. Bella la Ghiridor. Così bella Gaiarda. Quando si è presenta così. Con due segreti vicini. E anche il valletto. È una cosa spettacolare. Io sono tentato addirittura a determene un altro. Se non fosse perché voglio partire col Mana Wirm. Glifo. Glifo no. O Mana Wirm o niente in realtà. Perché ho troppo a uno. In realtà ne abbiamo un altro. Sarebbe il 2-1. Che costa uno. Che anche quello è molto molto forte. Altrimenti cari. Siamo un po' lentini. Siamo un po' lentini. In realtà siamo un po' troppo lentini. Perché il coin non lo posso usare. Chiaramente va giocato per la Ghiridor e basta. Lui potrebbe partire con svariate cose. Alunet caro. Sarà questa la partita buona anche in cui vi faccio vedere l'Alunet? In realtà non lo so perché. Oddio se è un Miracol sì eh. Potrebbe essere un Miracol cazzo. Caspita se potrebbe essere un Miracol. Con il Chiridor ve l'ho già detto chiaramente come la penso. Con il Chiridor. Eh mo esce te. Mo esci Mana. Ora esci caro. Sei un figlio di puttana se allora. Se esci ma sei uno stronzo. E sei uscito mo. Modivo per cui sei uno stronzo. Comunque. Potrebbe essere ancora buono il dragone il turno dopo. Però non per forza devo giocare il valletto. Devo giocare il valletto. Devo assolutamente giocare il valletto. Lui farà questo trade. Varo di valletto. E chiaramente dragone. È un tempo. Pensavo Gary fosse un Miracol. Ero abbastanza certo di questo. Valletto è molto forte in questo spot qua. Devo arrivare fino al turno 6. Avendo una board control buona. Il count esper potrebbe essere buono eh. Perché comunque. Va a puttana il backstab. Quindi una giocata come backstab. E 6-7. Non può farla. Ok. Vai faccia vero perché non hai assolutamente niente. Allora. Glifo. Anche perché è l'unica carta che posso giocare. Visto che. La. La. Oh cazzo. Lei è carina. Sì sì. Lei la gioco subito. Però posso anche giocare il glifo. A meno che non voglio fare il ping. Ma non ha alcun tipo di senso. Quindi glifo. Prima di tutto. Bello il missile arcano caro. Mi piace tantissimo giocarlo il turno dopo. Anche solamente per fargli danni in faccia in realtà eh. Bello il rune. Caro occhio perché. Questa è una buona rimozione. Prima di giocare l'Alunet. GG poi. GG. Se mette un minion come il 5-5. Ok. L'ha messo. L'ha messo. L'ha messo. Vado di missile caro. Vado di missile. Vado di missile. Sperando che perlomeno uno iti lui. Se poi ne iti due ancora meglio. Uno. Due. Tac. A posto. Tutto faccio. Via. Tac. Tac. Pronti caro a giocare. L'Alunet di follow up. In realtà è l'Ital di follow up. Quindi cosa cazzo sto dicendo. In realtà è l'Ital. Perché 3-4-5-6-7-8. Figura di se non trovo un paio di danni grazie al glifo. Comunque anche grazie alla rune. Dovrei trovarli senza problemi. Sì. Va bene. Ti prendi 3 danni. 2-4. Cari purtroppo io la lunette ve l'avrei voluta far vedere. Ma non ha senso qua farvela vedere. 2-4-5-6-7. Guarda è 3. 4-5. 6-7. Glifo. Probabilmente troverò l'Ital. Glifo. Ve l'avrei voluta far vedere. Ma non ho potuto. E quindi cari. Mi dispiace questo fatto. Signori miei. Spero realmente che il video vi sia piaciuto. Questo è il tempo. Si get made. Come avete. Che cazzo è? Mage. Come avete visto sicuramente. Un deck esplosivo. Dipende cari dal malican. Occhio. Dipende assolutamente dal malican. Ma un malican di come quelli che avete visto. Cioè in cui potete subito giocare i segreti. In early game. È assolutamente devastante cari. L'aggiunta della spella 3. È forte. Quindi va a aumentare ancora di più. La forza del tempo. Si get made. Che già prima. Nel meta passato. Anche se non veniva troppo giocato. Era comunque un deck interessante. Carissimi. Vi invito nuovamente a lasciare un like. Se appunto il video vi è piaciuto. Un commento. Te fanno la condivisione. Noi gari ci vediamo. Chiaramente al prossimo video. Pronti per vedere e sperimentare. Nuovi archetipi. Nel mentre. Un buon proseguente giornata gari. Un grosso abbraccio. E bella.